buongiorno come andiamo fa freddissimo ci sono 16 gradi ma dentro in cabina del camion foras è freddo va bene allora facciamo un gratino mamma bene bene ciao da cesarino buongiorno a tutti quando sei a brigitta metti su a brigitta vai allora vai ti allora bisogna che ti giri così se no mi è storto il video vai va finito dai eccola vai ciò ciò vai gratta mamma si vai niente due palloncini e una cicca va bene vai no niente 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 allora questi no è diverso il cappello niente la lavatrice niente qua 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 si da 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 vai sotto ma gratta qua non stai andando al sud e a ah eh tu vai qua qua che ti ha vinto vai quanto ti ha vinto si quanto che ho vinto che ho vinto 4 euro eh no non sei vinto qui c'è pari soldi nel biglietto e va niente niente a posto 4 euro perfetto ecco adesso nemmo sotto no pari qua vai no niente e va avanti su st'altro non sta verso il tutto no niente niente quanti su st'altro vanti su un altro niente niente vanti su un altro posto no niente tutti i palloncini vai via 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 si 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 sul bordo il premio mamma si pronti quattro euro bene a posto ecco a posto ti ame duro fa un piacere che se no non vi affasso col telefono ti concentri dopo ti ame duro si pronti dai 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 allora diverso diverso no diverso 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 niente niente aspetta no aspetta con la giro se no vi fuori è storto niente 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 e niente ti ha vinto ti benissimo bene dai salutiamo buongiorno buona giornata per tutta la settimana oh bene ciao buona giornata ciao anche da cesare che ronchisa come una canoccia allora 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 i palloncini non so come che il pazza dormi sempre